quindi nel nel tragitto dimmi cosa devo dire la verità la verità la verità quindi che hai fatto un'operazione che si chiama cessione di preliminare quindi che tu sei la proprietaria che hai venduto hai fatto un preliminare c'è dato la possibilità di fare i lavori di ristrutturazione che adesso in questo momento stiamo andando a vedere che come ci siamo comportati noi nei confronti del condominio che bene ok e lo è condominio com'era una rotta di rotto tante le scatole noi abbiamo gestito bene voi avete gestito la cosa nella maniera migliore e quindi che la casa l'abbiamo venduta e basta e quindi se ci dai la possibilità di far vedere questa queste tue parole a eventuali altri proprietari certo ci mancherebbe ok quindi hai la proprietaria dell'appartamento quello che vuoi la verità quindi cosa è successo tu hai provato a vendere non sono riuscito a vendere perché era da ristrutturare sì l'ho dato in mano a voi come all'agenzia certo all'agenzia dando il permesso di fare i lavori e poi devi comprare tu devo dire il tuo nome beh tanto siamo insieme quindi se anche dico l'agenzia non è che cambia non sarà contenta l'agenzia se qualora dovessimo fare vedere però noi lavoriamo anche un'altra agenzia quindi e che avete fatto una ristrutturazione che adesso andiamo a vedere che andiamo a vedere e basta che avete gestito la cosa nei confronti anche del condominio nella maniera migliore perfetto per noi è finché mai direi proprio quindi ci confermi la possibilità di far vedere questo video certo sì 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 ci mancherebbe ti ringrazio anzi ti ringrazio tutt'altro è da vedere